Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Basilicata sulle elezioni che ci saranno tra pochissimo. Vediamo che Vito Bardi, rieletto governatore della Basilicata, con il 54% dei voti, sarebbe questo il risultato delle regionali se gli aventi diritto si fossero recati oggi al seggio per esprimere la preferenza. Lo dice il sondaggio Direttecne. Quindi il centrodestra con il suo candidato in carica Bardi staccherebbe di 10 punti il suo sfidante Piero Marrese che resterebbe fermo al 44%. Questo è l'ultimo sondaggio e riguardo ai partiti Fratelli d'Italia e Forza Italia appaiati al 17%. La Lega non andrebbe oltre il 5%, Calenda al 6%, PD al 15%, Movimento 5 Stelle 11%, Lista Basilicata-Casa Comune 9%, Alleanza Verdi-Sinistra, Partito Socialista 6%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.